Momenti di tensione, ieri sera a Prato la Peligna per un principio di incendio divampato in una terrazza di via Trieste. L'intero quartiere si è prodigato per spegnere le fiamme, correndo in soccorso di una coppia residente nella zona che stava per cominciare la cena in terrazza. Ad accorgersi che qualcosa stava andando storto è stato un anziano del quartiere che immediatamente ha allertato i proprietari dell'abitazione. Si è quindi creato una catena di solidarietà e prossimità con gli altri abitanti del Rione e alcuni passanti che hanno dato manforte ai malcapitati per ovviare a fuori programma. Fortunatamente le fiamme hanno solo lambito la tettoia senza danneggiarla, mentre hanno bruciato un armadio. Si ipotizza che il rogo sia partito dalla citronella come accertato dai vigili del fuoco di Sulmona contattati dagli avventori che sono intervenuti sul posto con due mezzi a sirene spiegate per constatare la situazione ed evitare il peggio. Nei piccoli paesi le disavventure si risolvono anche grazie al buonsenso e alla collaborazione dei residenti che nel caso di specie si è rivelata fondamentale. Alla fine tutto è bene, quel che finisce bene.